Gentili amici, bentrovati all'appuntamento con linea diretta del giovedì, del giovedì santo se ci seguite in diretta, lo sapete, l'orario è quello dalle 15.30 alle 16.30, rete unificate, TVR Tele Italia 7 Gold, canale 19, TVR più canale 77, poi ci seguiamo anche la sera alle ore 19 su TVR più canale 77 e tutta la programmazione di TVR più si può seguire in tutto il mondo dal sito www.tvrtelitalia.com. Salutiamo anche le persone che ci seguono con le repliche del mattino delle 6 e delle 7, nel secondo frangente del nostro appuntamento troveremo il dottor Andrea Cavaciocchi, con lui parleremo di ortopedia. Nella prima parte invece è con noi il professor Alessandro Natali, buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Per parlare di andrologia, di tanti problemi, già ci siamo visti anche recentemente con il professore, sappiamo che molti, anzi oserei dire molte, telespettatrici hanno chiamato con il solito discorso Il mio marito si vergogna però c'è questo problema che poi ovviamente ci sono problemi come in questo caso, si parla di fertilità, ecco può sicuramente anche dar fastidio a tutto quello che è appunto l'ambito familiare Assolutamente sì Pertanto per capire che cosa succede quando appunto si parla di problemi di fertilità maschile, quindi ne soffre ovviamente anche la donna e soprattutto la famiglia che poi peraltro si dovrebbe eventualmente andare a ingrandire Professore, da dove possiamo partire? Ma diciamo partiamo dall'inizio come si sol dire, cioè nel senso che è un aspetto che i nostri telespettatori non devono sottovalutare e che forse diciamo attualmente è poco conosciuto Che sì, è vero che il, e questo lo sappiamo, il tasso di natalità a livello mondiale è in caduta libera come si suol dire, cioè nel senso che si fanno meno figli e purtroppo noi in Italia abbiamo il primato Certo, il negativo in questo senso Lei ben sa, negativo in questo senso Però andando un po' a indagare quelle che possono essere le eventuali problematiche, ecco, fermo restando che la componente femminile purtroppo è sempre presente da questo punto di vista in senso negativo Però anche noi, noi maschietti, le nostre belle colpe ce le abbiamo da questo punto di vista E riflettendo e facendo riflettere soprattutto i nostri telespettatori su un dato Allora, l'esame, chiamiamolo così, per l'uomo che costituisce la carta d'identità della sua fertilità, come dico io ai miei studenti, è lo spermiogramma Lo spermiogramma è quell'esame fatto in maniera un pochino, diciamo così, difficoltosa magari a volte anche per noi uomini Perché l'unico modo per raccogliere il liquido seminale è tramite la masturbazione Però al di là, diciamo, della difficoltà che qualche soggetto può avere nel raccogliere il liquido per andarlo poi ad analizzare da parte del biologo C'è un dato che ci deve fare molto, ma molto riflettere E qual è questo dato? Fino a 40 anni fa si considerava, diciamo, che uno fosse normale dal punto di vista della fertilità Si aveva intorno ai 50-60 milioni di spermatozoi per ml di eiaculato Ora, se noi oggi, nel 2022, dovessimo considerare normali solo gli uomini dal punto di vista della fertilità Solo gli uomini che hanno 50-60 milioni di spermatozoi per ml Non ci sarebbe al mondo una persona fertile Ecco, ma questo è perché allora quindi è davvero in calo la fertilità maschile Ma gli addetti a lavori si esprimono su questo? Allora, il discorso è questo Che purtroppo ci esprimiamo da questo punto di vista E ricordo anche che da questi microfoni per tanti anni in passato Sono state fatte tramite me e altri colleghi Degli accorati appelli agli uomini in età fertile a farsi visitare Ad andare a vedere se c'erano o meno problemi da questo punto di vista Quindi per noi addetti ai lavori purtroppo non è una novità questo dato che ho detto Mi spiego Perché oggi si considera, diciamo, come dico io Il minimo sindacale della fertilità, se mi passa questo termine Per quello che riguarda lo spermiogramma Quando un uomo ha intorno ai 20 milioni Diciamo tra i 15 e i 20 milioni per ml Mi spiego Quindi ben diverso dai 60 milioni che si considerava la norma 30 anni fa Diciamo Certo, certo Però oggi, anche qui, io quando con i miei assistenti, i miei specializzanti Facciamo gli ambulatori e leggiamo gli esami del liquido seminale di questi pazienti Purtroppo sono nella stragrande maggioranza dei casi devastanti, come dico io Cioè è vero che basta uno spermatozoo, no? Si dice per fecondare un uovo Siamo perfettamente d'accordo Ma siccome la fecondazione, da questo punto di vista, è un evento probabilistico, come si sol dire Ovviamente, più sono questi spermatozoi e maggiori aspetti qualitativi, buoni, hanno questi spermatozoi Maggiori sono le probabilità che questa fecondazione avvenga Mi spiego Professore, faccio una doppia domanda, se mi permette Prima per capire un po' quali, allora eventualmente, sono le cause che sicuramente saranno diverse da 30, 40 e 50 anni fa E poi soprattutto anche rispetto all'età Certo Dal momento in cui ha la prima mestruazione, cioè dal menarca fino alla menopausa E la donna è fertile solo in questo lasso di tempo L'uomo, teoricamente parlando, e le ribadisco, teoricamente parlando, per rispondere alla seconda parte della sua domanda Sull'età, dal momento, dalla pubertà, diciamo, fino a che non muore Teoricamente parlando, i suoi testicoli dovrebbero produrre spermatozoi La qualità di questi spermatozoi è tutta un'altra cosa, come si suol dire Però in termini di produzione di spermatozoi non è che esiste un momento in cui nell'uomo i testicoli, come nella donna all'ovaio, smette di funzionare e non produce più spermatozoi No, questo non c'è assolutamente Però, ovviamente, man mano che si va avanti negli anni E qui mi ricollego alla prima parte della sua domanda Sulle cause dell'infertilità E ovviamente, man mano che un uomo va avanti nella sua vita Anche qui, statisticamente parlando, è più probabile che dei fattori, chiamiamoli così, nocivi E delle alterazioni incidano sulla qualità del suo liquido seminale Però, al di là di questo, ci sono delle cose che possono essere viste in giovane età, come si suol dire Ecco l'importanza anche delle visite, diciamo, che i bambini dovrebbero fare dal pediatra, chiamiamolo così, di famiglia, diciamo Nel momento del loro, man mano che vanno avanti nel loro sviluppo, diciamo Perché è lì che si possono avere le prime avvisaglie, diciamo, di alterazioni Che, se corrette in quel momento, impediscono che quel bambino Che diventerà domani un ragazzo e poi un giovane adulto ed un uomo Possa avere dei danni da quella determinata situazione clinica Che, magari, se presa in età pediatrica, come si dice a Firenze, gli hanno abischierata E si risolve, mi sono spiegato Certo, questo è importante Perché, insomma È fondamentale Capisce bene che è fondamentale una cosa del genere Decisamente sì, anche perché, insomma, ci sono persone che Infatti ci chiedono con un messaggio Il rapporto tra psicologia e mancanza di possibilità di avere figlia Che questo può esserci Anche un altro fattore psicologico Certo, qui si apre un mondo, come dico io, diciamo Perché, ovviamente, al di là di aspetti di alterazioni fisiche Parlo sempre per l'uomo Nella produzione di spermatozoi Poi ci possono essere anche problematiche di carattere psicologico Diciamo, perché, ad esempio, nella donna questo è più conosciuto Perché a volte sappiamo che le donne Magari a seguito a forti stress Diete dimagranti, magari regini dimagranti molto rigorosi Situazioni patologiche in campo alimentare E quant'altro possono andare in, diciamo, possono Gli si può bloccare l'ovulazione, mi spiego Certo Ok, questo nell'uomo fortunatamente non succede, diciamo Però certi aspetti di carattere psicologico possono influenzare Professore, prendiamo la telefonata Certo Pronto? Pronto Buonasera Volevo parlare con l'andrologo Sì, sì, la sto ascoltando, buonasera Prego Parlare ora? Sì, sì, sì Allora, io sono andato dall'andrologo perché avevo un problema al pudendo Nervo pudendo Sì Avevo delle scosse a testicoli, sull'ano, no? E poi anche le lezioni durante la notte E questo dal gennaio, da luglio a gennaio Sì Volevo sapere che trattamenti, che l'agopuntura va bene per queste cose qui Volevo sapere questo Grazie, grazie infinite, grazie per la chiamata Professore Allora, sì, questo è un argomento che esula dal contesto Dal tema di oggi, certo Dal tema di oggi, però assolutamente il nostro telespettatore ci chiede se delle alterazioni di determinati nervi che sono importanti per il meccanismo dell'erezione Possono beneficiare di trattamenti di medicina alternativa tipo l'agopuntura Direi che da questo punto di vista queste situazioni, quando non ci sono altre problematiche patologiche organiche importanti Possono aiutare, diciamo, insomma Ovviamente anche da questo punto di vista consiglio il nostro telespettatore o chi eventualmente volesse accedere a questo tipo di trattamenti A rivolgersi a specialisti del settore, cioè nel senso anche nell'ambito degli agopunturisti c'è un albo nazionale, regionale dove si può fare riferimento a persone esperte in materia Altro messaggio, professore, buonasera La minore fertilità può dipendere dall'abuso di sostanze, alcol, farmaci e antibiotici Che negli ultimi decenni sono cresciuti in modo esponenziale, ci chiedono Certo, questa è una domanda molto interessante, molto intelligente Ma perché abbiamo telespettatori intelligenti, estremamente interessanti E' uno degli aspetti che volevo trattare di fatti Perché al di là di patologie, diciamo, che possono determinare problematiche di fertilità E ricordo ad esempio una su tutte il varicocele Che sono quelle vene varicose intorno al testicolo Che aumentando la temperatura del testicolo Possono determinare dei danni nella spermatogenesi Questo è la causa di infertilità maschile più conosciuta Diciamo, un uomo su quattro è portatore di varicocele Quindi un 25% degli uomini nella fascia di età riproduttiva Possono avere varicocele E quindi questa è una situazione che deve essere valutata dallo specialista Per vedere se questa situazione determina realmente alterazione Eventualmente della fertilità in quell'uomo Poi ci sono, per rispondere al nostro telespettatore Situazioni, diciamo, comportamentali Come si dice Cioè la qualità della vita La quality of life, come si dice oggi Con termini anglosassone È fondamentale per proteggere il testicolo Perché il testicolo Anche qui ricorro a una similitudine che faccio con i miei studenti Il testicolo è un po' il barometro Come dico io ai miei studenti Della salute dell'uomo dal punto di vista riproduttivo Se tu il testicolo lo tratti male, come si suol dire E per trattare male mi riferisco ad esempio A quello che i nostri telespettatori possano aver detto Cioè l'uso di, l'abuso di alcol, droghe, il tabacco Sono tutte sostanze che sono estremamente nocive per il testicolo Per quello che riguarda la produzione degli spermatozoi Poi il nostro telespettatore fa riferimento all'uso indiscriminato degli antibiotici Diciamo Ora, quello francamente Per quello che riguarda i danni al testicolo Ci andrei un pochino più cauto insomma L'uso indiscriminato degli antibiotici È giusto e corretto quello che dice il nostro telespettatore Semmai purtroppo ha creato quella selezione di ceppi, di germi Purtroppo resistenti agli antibiotici Di modo che a volte succede che quando abbiamo bisogno di un antibiotico Per curare una tracheite o una bronchite E magari non è efficace quell'antibiotico Rispetto a come lo sarebbe stato 20 o 30 anni fa Perché magari in questi ultimi 20-30 anni Quell'antibiotico è stato usato in maniera scriteriata Quando non ce n'era bisogno E qualcuno poi dice Non mi fa più niente Ma è scaduto o hanno cambiato qualcosa Perché prima mi faceva Siamo cambiati noi Abbiamo usato in maniera scorretta quell'antibiotico Esatto, lui faceva bene Che noi abbiamo fatto poi Lui purino Certo, decisamente sì Abbiamo parlato appunto di questo andamento Se vogliamo questo trend estremamente negativo Che insomma per vari fattori Appunto può dare ulteriori problematiche Ma si può frenare, rallentare, cambiare Diciamo così l'onda dal negativo al positivo C'ha un'altra domanda da farmi? Ma volendo, sono nove minuti Si può inventare però Questa so che è abbastanza difficile No, nel senso che Lei capisce bene Questa è una domanda A cui se io potessi rispondere In maniera certa Non dico che mi darebbero il Nobel per la medicina Ma quasi Cioè nel senso che Da quello che abbiamo detto E quello che i nostri telespettatori Estremamente attenti A quello che diciamo sanno La base della medicina È rappresentata dalla prevenzione Quindi qual è il concetto Da questo punto di vista Il concetto è quello che Io parlo sempre per l'uomo Ma è un concetto che varrebbe Per la donna Varrebbe a 360 gradi Per qualsiasi individuo Se tu sai che Determinati comportamenti L'uso di determinate sostanze Come abbiamo detto Un determinato tipo di alimentazione E quant'altro Nuocciano Nuocciano Alla tua salute In questo caso riproduttiva Porca miseria La prima cosa che dovresti fare È quella di evitarlo Giusto? Non è che ci vuole Chissà che cosa Per capire una cosa di questo genere Però il concetto quale è? Che Da una parte E qui faccio il mea culpa Per quello che riguarda La classe medica Noi medici abbiamo Parlo per i medici Della mia generazione Fortunatamente quelli più Diciamo Giovani di me Sono più orientati In questo senso Però noi Siamo più orientati Sulla medicina Del curare E non di quella Del prevenire Diciamo Mentre invece La medicina preventiva È l'aspetto fondamentale In questo settore E in qualsiasi altro Tipo di settore Ma non solo Nel settore oncologico Perché si pensa Che la prevenzione Serva solo Per evitare O diciamo Abbassare le probabilità Di avere un tumore Certo Quel settore È fondamentale Però La prevenzione Si fa in tutto Da questo punto di vista Dal dire Al bambino Faccio per dire Che non deve mangiare I troiai Come si dice a Firenze E deve invece Magari Mangiare Delle merendine Diciamo Corrette Dal punto di vista Alimentare Ecco Già questo È prevenzione Di quello Che potrà essere Magari Che ne so L'obesità In quel bambino E poi Successivi problemi Metabolici In quel bambino stesso Professore Le chiedono anche Quando è l'età Per fare una vita Curata A un ragazzo Adolescente Allora dunque Direi che Non è che esiste Un'età Ok Da questo punto di vista Perché Come ho detto Se il bambino E lo stesso vale Per la bambina Viene visitata Periodicamente Dal pediatra Di famiglia Il pediatra Nota Nel Diciamo Nella 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 Delle Alterazioni Se questo purtroppo Non è stato fatto Perché purtroppo Succede che questo Non sia stato fatto Direi che L'età Per un primo contatto Con un andrologo Da questo punto di vista Per vedere Che i testicoli Siano Scesi normalmente Il pene Sia adeguatamente Conformato E che non ci siano Problematiche A questo punto di vista È quello Intorno Dai 12 Ai 14 Anni Diciamo Insomma Quindi Quando Incomincia A esserci Il cosiddetto Salto Puberale Che è Un aspetto Molto importante Nella Cronistoria Dello sviluppo Sia del bambino Che della bambina Diciamo Allora Visto che mancano Pochi minuti Alla fine Di questo primo frangente La ringraziamo ancora Per essere stato Con noi Lei ci ha spiegato Di quelle che sono Le cause Di quello che si può fare Anche per migliorare Quindi la prevenzione Diventa fondamentale Assolutamente Importantissima Quindi anche Quindi una nutrizione sana E anche Una vita sana Una vita sana Fondamentalmente Ecco però Diciamo in un certo senso Se si può Diciamo così Trovare giovamento Facendo prevenzione Sì Ci si può Effettivamente Davvero Quando si è arrivato A un momento In cui C'è la fertilità Che manca Una cura specifica C'è un aiuto Anche in questo senso Sicuramente Da quel punto di vista Poi esistono Fortunatamente Delle terapie Mediche Chirurgiche A secondo ovviamente Del problema Mi spiego Che può Limitare la fertilità Però Il concetto Quale è Che Io parlo sempre Per l'uomo L'uomo Il centro Della fertilità Dell'uomo È rappresentato Dai testicoli Ecco I testicoli A differenza Dell'ovaio Nella donna Che è il corrispettivo Del testicolo Mentre l'ovaio Nella donna Uso un termine Magari Che può Suonare Strano Ma Che rende l'idea Mentre l'ovaio Nella donna Può essere Manipolato Farmacologicamente Come vogliamo E per manipolato Vuol dire Che possiamo Stimolare La produzione Di ovociti Nella donna Possiamo Bloccargliela Possiamo Fargliela Riprendere Cioè È estremamente Sensibile L'ovaio Ai trattamenti Farmacologici O eventualmente Anche chirurgici Per Quello che riguarda La sua funzionalità Il testicolo È proprio Il caso Di dire Fa quello Che cavolo Gli pare Dal punto di vista Della Sua funzione Cioè nel senso Che anche le cosiddette Medicine Le terapie Eccetera Sì Statisticamente Parlando Sappiamo Che se c'è un varicocele E lo operiamo Migliora la funzionalità Del testicolo Se magari C'è un'infezione Nel testicolo E la curiamo Sappiamo Che La sua Diciamo Funzionalità In termini Di produzione Degli spermatozoi Può tendere A migliorare Ma non abbiamo La sicurezza Come invece Abbiamo Nell'ovaio Per quello che riguarda La donna All'oggi Al domani potrebbe Chiamare qualcosa E purtroppo Perché il testicolo Continuerà a fare Nei secoli Tut Quello che gli pare Diciamo Da questo punto di vista Ecco perché È fondamentale L'aspetto Della prevenzione Mi spiego Perché Quando i buoi Sono belli Scappati Dal recinto Certo È difficile Rimetterli dentro In questo caso Perché purtroppo Se il danno C'è già stato A livello del testicolo Le terapie Servono Relativamente Diciamo A riportare Una situazione Quoante Come si suol dire Cioè Antecedente Al problema Quindi diciamo Per concludere I nostri amici Telespettatori Amiche telespettatrici Per quanto riguarda La fertilità maschile La prima cosa È trovare Un sano Stile di vita Questo è Fondamentale E importante Fondamentale E soprattutto Avere Avere a cuore I nostri gioielli Come dico io Che sarebbero i testicoli Perché Non è che sono lì Tanto per Per fare Diciamo Hanno una determinata Funzione Che noi Fin dalla Teneretà Dobbiamo prevenire Diciamo Altrimenti Ci troviamo In situazioni Molto brutte Di coppie Che magari Arrivano Alla mia osservazione Dove Il paziente È Azzospermico Come dico io Azzospermico Vuol dire Che nel suo Nel suo Liquido seminale E non si ritrova Neanche una spermatozoo A cercarlo Con l'anternino Diciamo Certo Questo Bisogna cercare Davvero di Evitarlo Assolutamente Bene Allora Ad esempio Ci segnalano anche Dall'andrologo Si viene marito Si viene marito e moglie O soltanto L'uomo Allora Io Come dico Sempre A chi si rivolge A me L'andrologo È il Medico Dell'uomo Ok Però nella stragrande Maggioranza Dei casi L'uomo Si trova Ad avere Queste problematiche Per cui È richiesto L'intervento Dell'andrologo In condivisione Con una donna Per cui È bene Che Sia La coppia Da questo punto di vista Sia per i problemi Nella sfera sessuale Che per i problemi Nella sfera Riproduttiva A rivolgersi all'andrologo Bene Quindi è anche un Percorso da fare insieme Assolutamente Grazie professore Grazie a lei Una felicissima Pasqua Anche a lei E a tutta la nostra regia Certo Grazie Ci fermiamo su un istante C'è Come lo sapete Il meteo Poi la piccola pausa E poi la seconda parte In linea diretta Rimanete con noi